Saranno ultimati entro la fine di agosto e i primi di settembre i lavori dell'attesa rotatoria fra le vie Flavia, Caboto, Carletti e la strada della Rosandra, che consentiranno di mettere in sicurezza uno degli incroci più complicati della zona periferica di Trieste. Nel corso di un sopralluogo sul posto degli assessori marchigiani e da pretto è stato possibile verificare come l'intervento stia proseguendo nel rispetto dei tempi e delle modalità previste. L'opera del valore di quasi 400.000 euro serve 5 assi stradali di grossa portata, oltre a donare un senso estetico migliore all'area. Il progetto, diviso per fasi, vede nel primo passaggio la collocazione delle barriere temporanee, i cosiddetti New Jersey, e procede con la demolizione del cune isole spartitraffico, la costruzione di un'isola rotazionale centrale e la realizzazione di nuove aiole divisorie. Saranno modificate alcune isole spartitraffico esistenti e i marciapiedi circostanti alla rotatoria. Previsti lavori di manutenzione, risanamento dei marciapiedi e della sede viaria della zona, nonché la collocazione dell'adeguata nuova segnaletica stradale ed elementi di arredo urbano, potenziato anche l'impianto di illuminazione e la rete di distribuzione di energia elettrica gestita da Cegas, APS e AMGA. La nuova rotatoria fa parte delle opere previste all'interno del piano regolatore. Sempre in quest'ottica si prevede anche la realizzazione, in accordo con la provincia e il comune di Muggia, di un'altra funzionale rotatoria all'ingresso di Aquilinia, oltre alla possibilità di favorire collegamenti ciclabili alla rete cicloturistica di Muggia e della Parenzana. Grazie a tutti.